Ancora una operazione del NAS Abruzzo a tutela della sicurezza alimentare a Pescara in collaborazione con la locale compagnia dei carabinieri il nucleo dell'arma che si occupa della tutela della salute ha scoperto un supermercato del capoluogo che operava senza autorizzazione comunale e violando le norme in materia di igiene e sicurezza alimentare. Secondo quanto accertato dal NAS pescarese nel supermarket che da tempo esercitava normale attività di vendita al pubblico non erano rispettate le procedure di autocontrollo e tracciabilità HCCP. Inoltre nel reparto macelleria del supermercato i carabinieri hanno rinvenuto contenitori non adatti allo stoccaggio della carne. Per telli ragioni l'autorità amministrativa ha disposto la sospensione dell'attività e la chiusura del supermercato. A Teramo invece i NAS a seguito di alcune segnalazioni dei cittadini hanno rinvenuto in un supermercato pasta fresca da conservare in frigo stoccata in promiscuità con le paste esposte sugli scaffali a temperatura ambiente. Sono state sequestrate un centinaio di confezioni di tortellini freschi che a causa delle inidonee condizioni di conservazione erano ormai muffiti.